Come state? Come state ragazzi? Un saluto, buona giornata a tutti da Milanello, la casa dei milanisti su YouTube Dai ragazzi, di nuovo buona giornata, ci avviciniamo all'ultimo atto, l'ultimissimo atto di un campionato fin qui entusiasmante Vi invito a lasciare un bel like qui sotto, iscrivervi qui, attivate la campanella, chi non si iscrive ti fa inter, ragazzi Scatenatevi qui e vi consiglio anche di scaricare gratuitamente l'abd1football, vi metto qui sotto il link in descrizione Basta cliccare, è gratuita, notizie esclusive, calciomercato, live, highlights di serie A e di serie B Ovviamente personalizzabile anche a seconda della vostra squadra del cuore, che nel nostro caso ovviamente è la C Milan Mi raccomando scaricatela gratuitamente, se vi va prendete la maglietta di Milanello su milanello.com Il link qui in basso, indossate la raduno il 5 giugno, 5 giugno, ore 19.15, a Pericena, l'Area Club davanti a San Siro L'ingresso costa 15 euro con consumazione appunto a Pericena, sarà una serata pazzesca Sperando possa essere festa pazzesca, se sarà festa lo scopriremo domenica intorno alle ore 20 Mamma mia ragazzi, ho la pelle d'occa, si avvicina il momento della finale, della finale di questo campionato Sapremo tutto, domenica manca sempre meno, contiamo le ore Non osi immaginare poi sabato notte come sarà, però ci penseremo Intanto pensiamo oggi, concentrazione, test e cuore ovviamente a quel momento Ragazzi, e andiamo avanti facendo una settimana, se possibile, normale Dove normale, si intende, sì ci pensiamo, sempre Però facciamo, se avete l'abitudine di andare a giocare a calcetto, il giovedì si è andata a giocare a calcetto Se avete l'abitudine di andare a prendere il caffè con l'amico, con l'amica andate Facciamo qualcosa di normale, quindi passiamo anche i momenti qui su Milanello E andate a vedere se avete ancora visto la incredibile live reaction sull'home page appunto del canale YouTube Milanello Il video che mi avete detto il più bello di tutti, sono d'accordo, il video più bello e emozionante di sempre Prima però, andiamo nel vivo di questo video Ragazzi, partirei da una frase di un giocatore che quando è arrivato sinceramente lo dico Io avevo aspettative zero Perché aveva zero esperienza, presenza tra i professionisti, giocava nella squadra B del Leone E dico vabbè figurati, personalmente magari eravamo in tanti Poi quando è arrivato ha cattivato subito, si è tirato subito le simpatie Ha scritto l'altro giorno su Instagram dopo l'ultima partita Ultima partita davanti ai nostri tifosi, grazie per il vostro sostegno durante tutta la stagione Daremo tutto per voi Questo daremo tutto per voi ovviamente è quello che ci fa rendere orgogliosi Calulu, un giocatore che ricordiamo sempre, ha appena 21 anni Anzi il 5 giugno appunto ci sarà il suo compleanno Chissà che non lo possa fare con noi al raduno di Milanello, al primo Milanello Party Quindi compierà 22 anni il 5 giugno Chissà che possa essere un segno del destino, non lo ricordavo sinceramente E voglio dirvi tante cose in questo video Per me è un giocatore pazzesco Qualcuno mi ha scritto, si bravino però No, secondo me non ci sono però Questo è forte, forte, forte Ha tutto per diventare un top Ha la testa, ha qualità, ha una testa che sembra la testa di un trentenne Tant'è che quando scende in campo sembra giocare con l'esperienza e la freddezza di un trentenne Ha una versatilità perché può giocare anche a destra, può giocare al centro Ha una personalità incredibile Perché ricordo in qualche momento difficile lui anche va avanti Aveva messo il cross, ricorderete per il gol di Leao sul secondo palo Ogni tanto prova a dare la scossa E' un giocatore che amiamo Parlo per tutti, concedetemi questa licenza E contro l'Atalanta lui ha fatto qualcosa di incredibile Io la prima volta che lo vedevo allo stadio Dallo stadio l'ho visto forse in un amichevole Mi ha impressionato più di tutti lui Allora lui ha fatto 93% di passaggi riusciti Altissimo 11 contrasti 82% vinti Quindi ottimo Due gli a terra 29 su 11 4 intercetti Un salvataggio Un dribbling Ha fatto una partita impressionante E con Tomori Le quali ci siamo già spesi Tanto Con Tomori siamo arrivati A subire soltanto due reti Nelle ultime 10 partite I numeri ci dicono Sono solenni Magari solenni no Ma ci danno indicazioni importanti Che bisogna analizzare insieme E poi vi do un parere molto autorevole Perché Perché siamo secondo me Parlando di un giocatore clamoroso Pazzesco Stratosferico Scegliete voi l'aggettivo Lui Ripeto Contro Napoli Empoli Cagliari Bologna Torino Genoa Lazio Fiorentina Verona Atalanta Ha sempre giocato tutta la partita Senza mai essere sostituito Sempre dall'inizio Abbiamo subito soltanto Ripeto Due reti Anzi no Sto dicendo Sto dicendo Sì due reti appunto Contro Il Verona E contro Il Cagliari Due reti in dieci partite Ci dicono molto Ci dicono che la prospettiva È di un campionato In cui tu subici Sette reti e mezzo Se riesci a mantenere questa media È un trend importante Dieci partite sono Più di un quarto di campionato E di fronte a questo trend importante Secondo me Lui sta avendo un rendimento clamoroso E lo dico Sarebbe un peccato Spezzare Dividere questa coppia Che Secondo un grandissimo Come Sandro Nesta Oggi è fondamentale Sandro dice Due difensori moderni Si va in alta pressione Contatto spazio dietro Quindi più stai avanti Più c'è meno pericolo Di avere i giocatori Avversari vicino alla porta Dove sono più pericolosi Permette alla squadra Di stare alta Oggi sono fondamentali Lo dice un professore Come Sandro Nesta Effettivamente Loro ci danno soluzioni incredibili Perché possiamo giocare molto alti E restare di più Nella mette a campo avversario Con un baricentro alto E tendenzialmente rischiare meno Se poi ci sono dei contropiedi Sono entrambi molto veloci E possono limitare Gli attacchi avversari Calulu a me Ha conquistato tantissimo Mi ha conquistato tantissimo E' diventato A gennaio una cosa seria E io dicevo A gennaio bisogna prendere un difensore Chapeau la nostra dirigenza Che ha detto no Perché Maldini ha detto Calulu sta diventando una cosa seria Puntiamo su di lui E' stata l'ennesima prova Di quanto sia lungimirante La nostra dirigenza Soprattutto se vogliamo In termini di difensori Tuernandez Tomori Calulu appunto Sapete tutti Che nei desiderata del Milan C'è anche Botman Con cui siamo molto avanti Botman porterebbe Che cosa? Centimetri stazza Perché ogni tanto Sulle palle alte Facciamo fatica Abbiamo subito Un vero pericolo Quel colpo di testa Di Zapata Se vogliamo E poi un altro In cui va appunto A chiudere Calulu Con Mignan Ci mancano i centimetri Ci mancano i chilogrammi Vero Vero A me Lo dico ancora una volta Il buon Botman Piace tanto E se la dirigenza del Milan Vuole spendere 30 Io dico va bene Mi fido di loro Però siamo qui per dare anche opinioni No? E dico che si Ci sono 50 partite in un anno Ci sono gli infortuni C'è tutto quello che volete Kira non sai come rientra Quindi per forza Un difensore importante Va preso La mia unica obiezione È che se prendi Botman A 30 milioni Botman deve giocare E di fatto Prende il posto di Calulu E per me è un peccato Perché ripeto C'è un trend Sono 10 partite di Serie A Con soltanto due reti Pensate dall'inizio È una cosa troppo bella Per essere rovinata Tra virgolette rovinata Però è chiaro che poi L'affinità La perdi Se poi gioca a Botman O ruotano Perdi un po' di affinità Ripeto Mi fiedo ciecamente La dirigenza Ma secondo me è un peccato Poi Poi Calma Calma Se mi dite C'è il passaggio A una nuova proprietà E ci sono sì Tanti soldi Allora spendo 30 per Botman Spendo 30 per 40 per il trequartista 50 per l'attaccante Va bene Ma Qualora Restasse Eglioto Non ci fossero Così tante risorse economiche Pur apprezzando molto Botman Lo dico Magari prendo tante critiche Io dico che i 30 di Botman Possono diventare 15 su un giovane Forte E gli altri 15 Però vado a destinarli Là davanti Dove comunque Tra trequarti Esterno di destra E attacco Devo spendere anche molto Quindi Non voglio dire no a Botman Dico che mi dispiacerebbe Non andare avanti Con Calullo e Tomori Che stanno facendo cose Impressionanti Cose pazzesche Cose assurde Tomori Chiaramente indiscutibile Poi qualcuno mi ha detto Io proposto la difesa 3 Però Non credo che sia un po' Nelle idee del Milan O nelle corde di Pioli Qualcuno mi dice Però a quel punto Calullo va sulla destra E prende il posto di Calabria Tutto può essere Va bene anche questo Però Secondo me Ripeto Se abbiamo 10 partite Con soltanto 2 gol subiti Qualcosa significherà Non può essere un caso E se è un valore così importante Portatolo avanti Anche la prossima stagione Questa è la mia idea Non dico di non prendere un difensore Botman mi piace tanto Però si poi si può ruotare Non lo so ragazzi Mi sono innamorato di Calullo Faccio out E mi sono innamorato di Calullo E quindi voglio Voglio appunto Portare avanti Questa candidatura E Ripeto Se ci sono risorse infinite Spegniamo 30 per botta Spegniamo per tutto Ma se non ci sono risorse infinite Secondo me A mal in cuore dico Prendiamone un altro Magari più alto Rispetto a Botman e Calullo Più ora Prendiamo sulle palle alte Con centimetri Chilogrammi Ma che costi 15 E che possa crescere Poi abbiamo anche Kier C'è Gabbia dietro Qualcuno propone Se no A quel punto Rinnoviamo Romagnoli E abbiamo tante risorse Là davanti Ragazzi Io spero che nel Milan Della prossima stagione Calullo Che è stato votato Miglior difensore Della stagione Da voi E a breve Deteniremo insieme Il Milanista dell'anno Il Rosso Nero Dell'anno Calullo È diventato una cosa Ripeto Seria Forte E a me Allo stadio Dallo stadio Ha impressionato Contro Avversari tosti Muriel Zapata Insomma Davanti l'Atalanta Ha un potenziale notevole Ha giocato Da otto in pagella E non è la prima volta Lo sapete che non è la prima volta E quindi Io spero che possa continuare Il Milan Con Calullo e Tomori Prendere qualcuno Però Vediamo Vediamo Ditemi la vostra Ragazzi Per me però È diventato un difensore clamoroso Assurdo Impressionante Pazzesco Gattivi Migliori di questo mondo Li appiccico Sulla maglietta Di Calullo Che magari sarà con noi 5 giugno Chissà Compiere gli anni Intanto noi festeggeremo Raduno di Milanello Prendete la maglietta Ragazzi Milanello.com Scatenatevi Ragazzi E poi facciamo una foto Un video tutti insieme Raduno di Milanello 5 giugno Aria Club Davanti a San Siro Vi aspetto numerosi Lasciate un bel like Un aggettivo per Calullo Che mi ha impressionato Mi ha impressionato Iscrivetevi qui Attivate la campanella Se ti fate Milan La prima squadra di Milano E volete che lo scudetto sia rosso nero Ciao